musica 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 bene però non so se la vuoi non so commettere avanti i movimenti ma non so che da me insomma adesso chiamoci anche la 25 minuti sono stati assolutamente psicologo fatto sai quanti ci sei riservato quanti ragazzetti andiamo a guardare vedete qua la stampa spolverata da polvere bianca vabbè si è cancellato le mani questo ha fatto scala a Venezia ha fatto scala a Venezia ha fatto scala a Venezia sta scritto là è scritto il passaggio del bagaglio dai inizio qui non so 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 Grazie.